Ciao, oggi un nuovo video dedicato a Vinted. Ti mostrerò altri suggerimenti per preparare dei pacchetti perfetti perché è fondamentale preparare dei bei pacchi perché è praticamente il nostro biglietto da visita per le persone a cui le inviamo. Quindi se vogliamo fare bella figura, vogliamo mostrare di essere venditori, seri, affidabili e magari indurre la persona ad acquistare nuovamente da noi, è fondamentale presentare bene il prodotto e ovviamente il pacchetto. Ed è per questo che voglio darti dei suggerimenti, mostrarti come preparo io i miei pacchetti visto che molti nei commenti mi fanno i complimenti per come impacchetto le cose, insomma penso che questo video possa esserti utile. Ne ho già fatti altri due su questo tema, se te li sei perso te li metterò linkati qui nelle schede così potrai recuperarli e adesso direi di iniziare subito questo video. E se non ho nessun sacchetto da Shein o altri siti da utilizzare e non ho neanche uno scatolo a portata di mano come spiedisco il mio capo d'abbigliamento? Con questo penso che abbiamo tutti a casa un sacco della spazzatura di questi neri, belli, coprenti e resistenti, lo ritaglio più o meno qui e ovviamente questo lo conservo per poi fare qualche altra spedizione si sa che a fine faranno tutti questi biglietti e lo metto all'interno e adesso lo ritudo e lo vado a sigillare tutto con il nostro aditivo ed eccolo qui pronto per essere spedito e qui andrò ad attaccare la mia etichetta di spedizione e se vi accorgete che avete terminato la carta per impacchettare come nel mio caso oppure non ce l'avete a disposizione si possono utilizzare le varie busse dei negozi che io ovviamente conservo sempre, io conservo tutto adesso ne prendo una e praticamente quello che faccio è tagliarla lungo i bordi e aprirla completamente e poi tolgo la parte dove ci sono i manici la parte con la scritta la metto all'interno e per impacchettare è perfetta e utilizzo sia questi che le buste, quelle bianche mettendole sempre al contrario come vi ho già mostrato nel video precedente io conservo praticamente di tutto e cerco di riciclare le varie confezioni ve ne mostro alcune e poi io andrò, questo qui è di un profumo andrò a riutilizzare per i vari pacchetti visto che sono di varie dimensioni queste qui sono del gelato dell'anno scorso non mi sono rimaste queste del riso sono perfette poi ci sono anche quelle delle chipster simile chipster questo che è più piccolino oppure questo qui che è dello scaldotto che è bello grande poi gli scatoli delle scarpe anche questi perfetti quindi il mio consiglio è riciclate tutto ovviamente serve lo spazio per tenere tutte le varie cose io non sono ritagliata un angolino nel mio ricostiglio e quello che faccio di solito è incastrare le confezioni una dentro l'altra in modo da recuperare spazio ad esempio questo lo metto dentro l'altro faccio un po' le madriusche ok queste sono quindi tutte le varie confezioni i miei suggerimenti per creare i vari pacchettini tutte le varie cose che potete riciclare altro pacchettino da preparare questa volta di cancelleria ho venduto questo set che avevo creato questi qui sono gli omaggi che metterò nel pacchetto quindi adesso vado a impacchettare tutto e penso che come confezione utilizzerò o questo quindi del riso oppure questo qui dei riz adesso vediamo e ovviamente andrò ad utilizzare le varie bustine per contenere tutti i vari articoli volantini, carta insomma per fare spessore e far stare tutto fermo all'interno del pacco all'interno del pacchetto all'interno del pacchetto all'interno del pacchetto all'interno dell'interno del pacchetto adesso vado a prendere il mio sacchetto io prenderò questo qui di Bershka lo apro, tolgo i manici e lo uso per incartare il mio scatolino a prendere il mio sacchetto il mio sacchetto e il mio sacchetto e il mio sacchetto e il mio sacchetto ed et voilà, pronto e adesso qui attaccherò la mia etichetta ciao 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 dalle cose che metto in vendita per magari vedere come imposto io le varie foto, cosa scrivo nella descrizione, nel titolo perché anche questo è fondamentale per vendere bene i prodotti quindi io spero che questo video ti sia stato utile se hai delle domande o vuoi vedere altri video inerenti a Vinted fammelo sapere giù nei commenti, se lo hai apprezzato ti invito a lasciarmi un pollice in su per farmi sapere insomma che lo hai gradito io ti mando un bacio, ti auguro una buona giornata e spero di rivederti ovviamente anche nel mio prossimo video, ciao!